senti che profumo cosa abbiamo oggi a piatto un intero filetto sfumato al cognac non male ma c'è di più questo filetto verrà avvolto in una morbidissima crepe coperta con prosciutto dolce ed una duxelle di funghi e tartufo bianco il tutto all'interno di una sfoglia croccante ed aromatizzata al tartufo è il filetto alla wellington beef wellington secondo piatto facciamo insieme questa leccornia tra le leccornie ecco il nostro filetto dalla testa fino all'inizio della coda come vedete è stato già pulito non ci rimane che ritagliarci lo chateaubriand ovvero la parte centralissima del filetto il wellington si fa con questo taglio sarà circa un chilo pulito e con l'altro pezzo lo leghiamo e ci facciamo un bel roast o da anche un secondo wellington se accettiamo l'esistenza di due pezzi di carne al centro un wellington dei poveri se mai si possa definire così un piatto di tale portata guardate che bel tocco di carne stiamo cercando una dimensione omogenea e qui c'è non c'è taglio bovino più ricco di questo ora gli levo la colonnella ed il nostro chateaubriand è pronto da marinare con la colonnella ci facciamo uno stufato uno stufato da re saliamo per bene e lo facciamo riposare almeno due ore il sale deve entrare per bene dentro la carne inoltre dobbiamo dare il tempo ai processi osmotici di riassorbirsi tutti i succhi che il sale richiama in superficie un errore comune dell'amatore è quello di salare e non dare il tempo affinché i succhi si riassorbano questo porta la perdita di gusto e ad una rosolatura terribile sempre parlando di sale già che ci siamo un altro errore comune è quello di salare la carne a fine cottura una follia che rovinirebbe questo filetto e di conseguenza il wellington un discorso simile si applica anche ad una bistecca fiorentina ovviamente mentre allo chateaubriand si fa il suo riposo ci prepariamo le crepe e tutto il resto questi gli ingredienti per le crepe le quali daranno non solo un gusto maggiore al nostro wellington ma proteggeranno ulteriormente la sfoglia dalla fuoriuscita dei liquidi di cottura due uova sbattiamole questa che vedete è una ricetta base con questo mix ci possiamo fare di tutto da crepe salate a crepe dolci quindi aggiungete questa sezione del video al vostro ricettario eccolo qui bello omogeneo passiamo la farina alla quale aggiungiamo sale e zucchero incorporiamo il latte poco alla volta perfetto dentro le uova il burro sciolto questa è la consistenza giusta vedete quanto è liquido la proporzione farina liquidi da ricordarsi e di circa due volte o due volte e mezzo setacciamolo anche se siamo stati molto attenti qualche grumo si forma sempre quindi è bene setacciare e mentre diamo il tempo la pastella di riposarsi portiamo il forno a 200 gradi questa teglia è stata in forno a 200 per 10 minuti perché vi chiederete perché per il nostro wellington faremo delle crepe rettangolari delle crepe che avranno la dimensione giusta per noi se si fanno le crepe in padella è probabile che dovremo sovrapporre due crepe per ricoprire l'intera lunghezza del filetto ed il nostro wellington ne risentirebbe in cottura così invece è facilissimo mi raccomando la crepe deve essere sottile bene ora in forno statico a 200 appena vediamo che la crepe si stacca dalla superficie è pronta rullo di tamburi ed ecco il nostro lenzuolo anzi il nostro scudo scudo di difesa contro i liquidi come vedremo poi guardate quanto è fina con il resto della pastella ne ho fatta un'altra con questa ci faccio dei carnelloni si si osservate come il nostro filetto entra benissimo al suo interno perfetta procediamo con lo strato che si coniuga con la carne nella maniera migliore funghi e tartufo bianco un tripudio di umami facciamo i nostri funghetti a pezzettini qui vado con il coltello è il modo migliore per preservare i funghi il frullatore ve li rovina ve lo dico subito poi fate voi ora questi funghetti li asciugheremo in forno per un po così da rimuovere l'eccesso d'acqua solo l'eccesso che altrimenti causerebbe dei problemi in cottura al nostro beef wellington e mentre il forno arriva a temperatura ci prepariamo un soffrittino veloce di prezzevole scaloglio al burro da aggiungere i funghi disponiamo i funghi in teglia soffritto giro d'olio uniamo il tutto abbiamo fatto due teglie perché ne useremo anche per i cannelloni abbiamo detto facciamo anche dei cannelloni per il wellington ne basta una sola in ogni caso vi riportiamo solo le quantità per il wellington sia nel video che nella descrizione in forno 180 ventilato da girare frequentemente e ecco i nostri funghetti guardate quanto si sono ritirati non hanno perso il gusto solo l'acqua ed ora tappatevi il naso perché stiamo per mettere il nostro tartufo bianco comunque non vi preoccupate odoro io per voi aggiungiamo questa salsa di tartufo bianco e the smell of them non so cosa dirvi ed ora per farvi ancora più male passiamo alla rosolatura del filetto con successiva sfumatura al cognac osservate il nostro filetto in primo piano mentre il secondo lo abbiamo ottenuto dalla testa del filetto unendolo con lo spago ottimo per un roast o anche un secondo wellington come abbiamo detto in ogni caso vedete come i filetti sono asciutti e quindi non ci resta che rosolare al burro chiarificato o concentrato come talvolta è chiamato è fondamentale usare questo burro perché non brucia controllate sul nostro canale come realizzare il burro chiarificato a casa veramente facile lavoriamo su tutte le superfici la temperatura che raggiungiamo con queste padelle in acciaio al carbonio è veramente alta stiamo parlando di 350 400 gradi a queste temperature la reazione mylar tra i carboidrati e le proteine della carne avviene molto rapidamente ed è ciò che vogliamo per una corretta rosolatura con minima perdita di succhi mamma mia che profumo c'è un odore di carne alla griglia da paura il nostro staff si sta sentendo male soprattutto la regista che è una carnivora doc guardate la nostra torretta come si tiene bene in piedi questa è carne di prima scelta signore e signori non ci resta che sfumare e deglassare preparate i vostri occhiali da sole perché stiamo per avere delle fiamme degne di ade grazie a tutti se prima emanava un profumo seducente ora siamo veramente al nirvana dei sensi guardate che colore ora deglassiamo questo fondo noi lo filtreremo lo sgrasseremo e quindi verrà aggiunto al fondo bruno per creare la salsa demi glass al cognac che useremo per servire il nostro wellington ora che abbiamo tutti gli elementi non ci resta che assemblare il beef wellington partiamo con le crepe l'abbiamo già tagliata a misura di filetto adagiamo il prosciutto dolce uno strato a coprire rimuoviamo gli accessi questi vanno ai nostri cannelloni quindi la duxelle facciamo uno strato di un centimetro scarso c'è chi mette il prosciutto a contatto con la carne noi preferiamo i funghi e il tartufo per inciso il tartufo è un'aggiunta nostra abbiamo deciso di modificare il wellington omettendo la mostarda di john ed aggiungendo il tartufo alla duxelle poi se volete saltare sul carro dei mostardari anglosassoni fate pure adesso questo filetto lo lasciamo così una mezz'ora e poi finiamo l'assemblaggio con la pasta sfoglia la sfoglia vi suggeriamo di farla a casa il giorno prima se proprio non avete voglia di farla compratela ma non al supermercato dove troverete solo sfoglie piccole e con olio di palma andate da un pasticcere di fiducia piuttosto mentre questa che vedete l'abbiamo fatta ad hoc aromatizzandola con il tartufo se volete vedere come fare una pasta sfoglia controllate nel nostro canale il video a riguardo e siccome è fatta ad hoc e non c'è nessun bisogno di taglia in colla visto che è grande abbastanza per il nostro filetto e con gli scarti ci facciamo dei rustici per esempio salsiccia di cinghiale tartufo nero di norcia perché no spennelliamola bene con uno sbattuto di tuorli e panna ed avvolgiamo il nostro filetto anche in questo caso molto stretto tagliamo l'eccesso che va per i nostri rustici buoni buoni schiacciamo per bene sigilliamo con una forchetta e ripieghiamo l'eccesso guardate che bella forma guardate quanto è bello spennellata d'uovo su tutta la superficie ed è pronto a ricevere la maglia decorativa o qualunque decorazione preferiate noi andiamo sul classico e hop là che bello abbiamo pescato un filetto pensate non ci resta che sigillare per bene altra spennellata d'uova il wellington è pronto ad andare in forno 200 gradi ventilato per un 20 25 minuti comunque piuttosto che con il tempo giudicate a vista e con un termometro la sfoglia deve essere ben colorata e la temperatura interna della carne deve essere intorno a 48 gradi per una cottura che lascerà il filetto bello rosa mi raccomando non rovinate la vostra creazione cuocendolo troppo fate sempre in tempo a ripassare le fette al forno se trovate che la cottura sia troppo al sangue è bellissimo guardate che colore sia la sfoglia base che il reticolo hanno un colore omogeneo lungo tutta la superficie croccante ma un wellington intero e per almeno quattro persone anche sei lo dobbiamo fare a fette che ne pensate dell'interno questa è la cottura ideale inoltre osservate come la sfoglia sia asciutta e di conseguenza rimane croccante allora impiattiamo salsa de miglès al cognac la nostra ricca fetta di beef wellington un bicchiere di barolo e la leccornia è servita descrivervi il profumo ed il sapore sarebbe pedante e soprattutto sadico provatelo e goderete e non dimenticatevi di scrivervi a piatto di cliccare sulla campanella e di farci sapere nei commenti come fate il vostro beef wellington grazie a tutti grazie a tutti